Un altro servizio molto apprezzato da noi installatori, soprattutto nel nostro caso, è il servizio BMI Expert, dove l'assistenza tecnica che ci viene data per la realizzazione di quasi tutte le nostre coperture per la realizzazione del fascicolo tecnico che ci serve poi in fase di studio, preventivazione e realizzazione della copertura, raffrontandoci con il cliente e con i tecnici che sono già sul progetto. Grazie